Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Sword Art Online Lost Song Ci ritroviamo nel negozio di Agil perché ci sono due missioni da fare Allora, andiamo subito a parlare con Agil prima di tutto Ok Eh beh, quel giocatore sembrava proprio depresso È così che si vende la merce È così che si vende la merce Eh? Non so neanche di che arma Stiano parlando però vabbè A qualche povero riccone Ok Ok Che arriva ora Oh, Klein Ok Ok Di tipo Dacci un'occhiata Oh, un fruttiere Mi stava alla perfezione nell'inventario Ok Ok L'accetto io Ebbè Quindi dovrei trovare la chiave per lui Ok Ok Non ho abilità del genere Ok 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 Troviamo il modo Se ci dicono come Ok Una chiave Vabbè È normale È un forziere Bisognerà aprirlo con una chiave Ok Vabbè Andiamo Ok Ok Vabbè In a clean Ok Vabbè 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 È una spada La voglio io Ok Ok Quindi lo Credo È un forziere Chiusa cave Ok Ma cosa devo fare Ah Ok Devo parlargli qua Ok Nel corso di questo evento Avrà luogo un combattimento Vuoi davvero avviarlo Sì Andiamo Ok Andiamo Dove però Ah Nel dungeon Ok 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 Quindi ci dovrebbe essere un mostro un pochino più forte Va bene Occhi aperti Magari vediamo qualcosa di strano Ok Andiamo Andiamo a vedere Ah ma siamo solo io e Klein Ok Quindi ci sono anche missioni di questo tipo Va bene Interessante Buono a sapersi Ok Ok Però in due devo dire che è più lungo eh Ammazzare i mob Dai Vaffanculo Ok andiamo Però questo è il dungeon che avevamo già fatto Molto tempo fa ormai Ok Forse Ora che ci penso In questa stanza c'erano tutti gli interruttori da aprire Premere così No Schivo Attenzione Le super schivate faccio Stavo dicendo C'erano tutti questi interruttori da premere che sbloccavano qualcosa Forse può centrare con Con il forzer Vediamo No non li fa neanche toccare No Ok Allora vuol dire che dovremmo andare da qualche altra parte Forse dal boss Cioè è la cosa che È la prima cosa che mi viene in mente Andiamo subito dal boss Qua niente Qua niente Ok Ho sentito dei mostri Ah vabbè sono questi qua No che esplode Ok Dai vieni qua Ecco infatti Lo sapevo che esplodeva Dai Crepa Grazie crane Ok andiamo a vedere di qua Niente Un dragone Due dragoni Ok Va bene Carini Magari alla chiave Si spera Sono prontissimo Forza andiamo Forza andiamo Sconfiggiamoli subito Ci sono anche gli add Ok Vabbè Sono a livello 120 Ma Mi importa che abbiano solo una barra di vita Però No ma sono anche facili dai Sì sì Con anche una skill Abbiamo tolto molto Però rompono Ecco Ok uno è quasi andato Andiamo per il prossimo Skill Ecco qua Quasi morto Bella Andato Sconfiggiamo anche gli add del cazzo Devono esserci sempre gli add Sennò non si è felici Ok Prossimo là Dove cazzo vuoi? Vieni qua Ok Sconfitti E beh Clean Ok scopriamo se ci ha dato la chiave Non sarà la chiave? La chiave infatti Però una cosa che mi chiedo Clean aveva detto che aveva girato in lungo e in largo Per trovare la chiave Ma non l'aveva trovata Perché quando siamo arrivati noi C'era subito il mostro Ha proprio cercato in lungo e in largo Clean Eh beh So che vai sempre in giro con le ragazze No Non lo so 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 Ma cosa Ma se Ma se fino a due secondi fa Ce l'avevamo nel party Clean Vabbè Quante belle parole per Clean È la cosa più bella Che mi abbiano mai detto Ok Va bene Va bene A posto Cosa sono questi discorsi Eh sì Torniamo in città Voglio vedere cosa c'è dentro Ehm Ha Hai la chiave di Ah Ming Già Spero di averlo letto bene Ok Sì, l'abbiamo trovata, Agil. K&K. No, Agil, volevamo aprirlo con te. Eh, allora. Eh, allora, 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 mettiamoci un obiettivo di TAKARAMAKO e la caglia di obiettivo. Ok, ok. Il tuo cuore è pronto. Ok, bene. La caglia è riuscita! Sì, ora! Questo è? Vabbè, seriamente. No. Seriamente. Non è un libro. Sì. Ok. Credo che ce la può tenere Clayton. Fosse un gioco adatto a tutti. Ovvio che guardo dentro. Ebbè. Che sti versi. Ragazzi. Nell'unboxing avevo detto rating 12 più, no? Ora ho capito il perché. Sì, è vero. Ho preparato. C'è un gioco adatto. No, credo che non ci interessi più di tanto. Vedo tutto sfocato. Ah, perché ancora... Ok. Eh, beh. Ora ho veramente capito il perché è rating 12 più. L'ho capito ora. Ma... Infatti... Ebbè. È come dire che è un cheater. Basta avere la passione, la determinazione, una volontà di ferro. Oh mio Dio. Tanto vale che lo tenga. Eh beh. Cosa giusta. Anche se non lo possiamo utilizzare. Ma vabbè, dai. Teniamolo tanto. Cosa giusta. Ha ragione, Agil. Ha ragione. Oh? Cosa è venuto? Eh, scommetto che ora è Agil e le altre. Cosa giusta. Cosa giusta. Quante è venuto? Ah, è venuto. Ci sono una cosa che sono. Cosa? 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 Ma non ci sarà un momento? Cosa stai facendo? No, non ci sarà. Non ciò non c'è nulla. Oh? Cosa stai succedendo? Cosa stai scoprotti? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Oh ioioi, attenzione Vai Clayn, bastardo Con quella voce Asuna? Non mi sembra che questa cosa sia in ALO Certo, se questa cosa si tratta, non riesco a farlo Mamma, che cosa è? Mi-chan non mi piace Ah, sì, mamma, ma non mi piace Perché sta per prendere a botte Kirito? Ehm 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 Sì, proprio Ok, mi fa paura Asuna Molta paura Povero Clay Ok Hai un album